Bentornati a tutti in questa seconda puntata di Massaggi e Rituali dal mondo. Oggi per questa seconda puntata quale tipi di massaggio o trattamento ci mostrerai? Oggi parliamo del massaggio Thai con olio. Thai oil è un dolce ed intenso fiume di energia che scorre attraverso il corpo. Il massaggio tradizionale thailandese si basa sull'esistenza di linee energetiche invisibili, chiamate seme, che percorrono tutto il nostro corpo con lo scopo di portare energia. Trattando queste linee possiamo eliminare eventuali blocchi e stimolare il flusso corretto di energia, riportando in equilibrio l'intero sistema corpo-mente. Qui in Occidente viene spesso addolcito dall'utilizzo di oli, sacchettini ripieni di erbe scaldate a vapore e canne di bambù calde, che seppur discostandosi dal protocollo originale eseguito a terra, su futon e da vestiti, si adatta molto meglio alle esigenze occidentali, che ricercano relax e distensione psicofisica, pur mantenendo però intatti i principi originali, fatti da digitopressioni, palmopressioni, stretching e allungamento lungo i sene. Ok, allora andiamoci a vedere questo bellissimo massaggio Thai con olio. Ok, allora andiamoci a vedere. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.